Albano ha cantato Felicità a Madonna Dovesse esistere un video verità, la viralità sarebbe garantita. Nella lunga e festosa settimana pugliese di Madonna, sbarcata in Italia per festeggiare il proprio sessantatresimo compleano ci sarebbe stato anche un incontro a dir poco clamoroso. La regina del pop avrebbe infatti conosciuto Albano e Loredana Lecciso, come segnalato da D'Agospia. Nel pieno di un evento, Madonna avrebbe avuto anche il privilegio di ascoltare Albano intonare Felicità, brano che a inizio 2022 compirà 40 anni di vita. Felicità venne presentata al Festival di Sanremo del 1982 e si classificò al secondo posto, battuta da storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. L'album Felicità vendette 25 milioni di copie in tutto il mondo. Ancora oggi Romina Power e Albano fanno concerti trainati proprio dall'iconico pezzo. Cosa avrà pensato Madonna di Felicità, cantata dal vivo per lei nel cuore della Puglia, non è purtroppo a noi noto. Non ancora perlomeno. In uno dei tanti video social pubblicati nel corso della sua vacanza italiana, la pop starà intonato Bella Ciao, nel pieno di una cena ad Ostuni. Magari un giorno ascolteremo Felicità remixata da Madonna, come avvenuto con Gimmi. Gimmi, Gimmi, degli Abba, campionata per dar vita ad Angap. Con un genio del pop, mai dire mai.